Quanto costano gli infissi in alluminio di Leroy Merlin? Ciao, sono William Bisacchi di Bisacchi Infissi dal 1973 e ci occupiamo di infissi per abitazioni private con il sistema Bisacchi. Oggi ti voglio rispondere a questa domanda perché di primo acchitto i prezzi di Leroy Merlin possono sembrare molto convenienti per gli infissi in alluminio, però che cosa succede? Sono infissi diciamo più industrializzati, più standardizzati quindi se stai facendo un'abitazione importante, se stai costruendo una villa probabilmente avrai bisogno di una personalizzazione, di una consulenza, di un servizio che Leroy Merlin ad oggi farà più fatica a farti. Poi in ogni caso vale sempre la regola dei proverbi, che i proverbi sono la saggezza dei popoli. Quando si spende poco per una cosa è impossibile pretendere di avere tanto quindi anche a livello di consulenza, a livello di materiale, a livello di assistenza, a livello di montaggio tutte queste cose sono molto importanti in un infisso che è qualcosa che deve essere costruito veramente bene e durare tanto nel tempo. È un elemento che deve essere trasparente, deve essere apribile deve tenere il caldo, deve tenere i rumori, deve non far passare l'acqua, ti deve proteggere, deve essere sicuro ecco tutte queste cose e devono durare magari se hai fatto bene anche 40-50 anni come fa a costare troppo poco, ti devi un pochettino accontentare e ci sono quei casi dove può essere anche conveniente prendere il tipo di infisso di Leroy Merlin magari una casa da affittare dove nel giro di pochi anni ti distruggono tutto in quel caso lì ad esempio noi non abbiamo soluzioni per questo tipo di abitazioni. Il rischio di fare degli infissi standardizzati senza consulenza è quello di trovarsi con degli infissi che non funzionano bene nella propria abitazione ad esempio le grandi aziende, Mari, fanno delle promozioni su un vetro selettivo che è un vetro che trattiene il calore, che va bene solo in alcune posizioni in tutta la casa è sbagliato mettere quel tipo di vetro oppure a casa tua hai alcune finestre che potrebbe essere bello dotarle di un vetro acustico quindi un sistema che ti fermi un po' più il rumore questo con degli infissi standardizzati è un po' difficile da ottenere ma soprattutto è difficile senza avere una persona, un vero professionista e consulente che ti possa consigliare la scelta giusta infisso per infisso a secondo del tipo di rumore, dell'isolamento che vuoi ottenere della posizione punto cardinale nord sud ovest est queste sono le cose che puoi ottenere se visiti il mio sito www.blogbisacchi.it e richiedi una consulenza personalizzata ciao e al prossimo video